In Puglia, quasi una donna su quattro ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita, mentre sei donne su dieci sono state minacciate o aggredite da partner, amici o conoscenti. Il dato emerge da una ricerca nazionale condotta dall'associazione Intervita Onlus e presentata nella tappa barese del tour Intervita dal titolo Le parole non bastano più. L'iniziativa, che ha toccato Bari dopo altre dieci città italiane, è partita da Milano il 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino, e si inserisce in un più ampio progetto della Onlus dedicato alla violenza di genere. Accanto agli inestimabili costi umani di questo vero e proprio bollettino di guerra, rivela l'indagine, la sola regione Puglia sostiene anche gli effetti in termini economici per la cifra allarmante di quasi 1 miliardo e 100 mila euro, sui circa 17 miliardi di euro stimati a livello nazionale. I risultati della ricerca, quanto costa il silenzio, sono stati presentati nella sala consigliare del comune di Bari nel corso di un workshop dal titolo Quali investimenti per strategie di contrasto alla violenza contro le donne? In Italia, ogni tre giorni, una donna viene uccisa dal partner mentre ammontano a 14 milioni gli atti di violenza dallo schiaffo allo stupro, con oltre 25 episodi di stalking al giorno. La tappa barese si è chiusa con tre proiezioni in piazza del Ferrarese, tre video della durata di alcuni minuti che hanno fatto scorrere sulla facciata dell'ex mercato del pesce tre scene di vita quotidiana fatte di ombre e urla di dolore, in cui altrettante donne vengono insultate, picchiate e uccise da mariti padroni. Il tour si concluderà a Roma l'8 marzo prossimo, giorno della festa della donna.